Artrosi al ginocchio. Come riconoscerla? Come sapere se abbiamo davvero questa malattia così diffusa che ci porta a un'usura della cartilagine e a dolore in tutte le attività? Ebbene ci sono cinque sintomi che possono essere ricondotti a uno stato di consumo dell'articolazione con l'artrosi. Ma prima di iniziare in questo video vi ricordo di mettere mi piace e iscrivervi al canale per farmi vedere che gradite questi contenuti, per avere altri contenuti e supportare in maniera semplice questo progetto. A voi non costa niente, per il mio canale è così importante e farà vedere a più persone questo genere di video se sono video che vi piacciono. Condividetelo anche ad amici o persone che pensate possono avere questo interesse. Ma torniamo a noi, i cinque sintomi che vi possono far pensare di avere un'artrosi al ginocchio. Prima cosa, una rigidità nel movimento. Il ginocchio magari ancora non fa molto male, non ha dei limiti importanti ancora in altre attività, ma cominciate a sentire come se fosse legato, stretto, non libero. Se forzate la flessione completa non arrivate più bene a toccarvi col tallone il sedere. Se vi inginocchiate comunque nel rialzarvi non è un ginocchio completamente libero. Questo senso di costrizione al ginocchio sono i primi segni infiammatori che generalmente sono più frequenti dopo che si è stati fermi a lungo, ai primi passi dopo che si è stati un po' di tempo in macchina o ai primi passi la mattina dopo il risveglio. Secondo segno, quando mettete il peso del corpo sul ginocchio sentite male. Il carico che viene dato nel cammino sul ginocchio è un carico che può essere variabile a seconda delle nostre attività. Tipicamente i primi sintomi si hanno quando si scendono le scale, quando si scende una discesa, quando si deve caricare l'articolazione in una maniera più importante del normale dovuta a un dislivello che si deve compiere. Oppure lo sconnesso, quindi dolore in attività più impegnative del normale può essere uno dei primi segni di artrosi al ginocchio. Terzo criterio per l'artrosi, il gonfiore. Vedete che questo ginocchio non ha esattamente la stessa forma dell'altro lato, ma è più grosso, è più cicciotto. Questo può dipendere o dal liquido dentro l'articolazione, cosa che generalmente è più comune dopo un trauma, oppure semplicemente che si vede gonfiare in alcuni punti dove la membrana sinoviale è infiammata e quindi comincia a vedersi dall'esterno un rigonfiamento che è però un rigonfiamento duro, non legato al liquido, legato proprio al fatto che la salute del ginocchio alla fine non è così buona. Quarto motivo che vi può far sospettare di avere un'artrosi al ginocchio se gli altri vi dicono che zoppicate. Questo è veramente molto frequente perché nelle fasi iniziali noi abbiamo delle protezioni nel ginocchio che sono inconsce. Cioè succede che senza accorgercene magari proteggiamo quell'articolazione perché già il nostro cervello sa che è un'articolazione che inizia ad essere malata, non più efficiente come all'inizio. Bene, in queste circostanze avremo un ondeggiamento nel corpo durante il cammino dovuto alla protezione che noi non percepiamo perché lo facciamo in maniera istintiva, ma chi ci conosce bene dal di fuori dirà ma cosa ti sta succedendo? Stai zoppicando? In un primo momento può essere spiazzante, può sembrare che siano gli altri a non capire niente, che noi stiamo bene, però fidatevi se cominciano a dirvi le persone che vi stanno vicino, che state zoppicando, quello è un segno che può essere appunto legato all'artrosi. Quinta cosa da non sottovalutare è se non riuscite più a fare quello che vi piaceva fare prima. Trovate le scuse per non uscire, trovate le scuse per utilizzare meno il ginocchio, trovate le scuse per non andare a fare alcuni tipi di attività perché vi state già ponendo il problema dell'articolazione. Questo può essere un segno di artrosi iniziale che non deve essere sottovalutato. L'artrosi ha una gradazione, ha una gradazione che si fa con le radiografie, è molto semplice da vedere, quindi anche con un esame semplice, che è la radiografia col peso del corpo sopra. Sulla base della gradazione ci sono diverse indicazioni, tra cui le cure conservative, le infiltrazioni, la ginnastica, il rinforzo muscolare. In fase iniziale sono tutte cose semplici. In fase avanzata, solo dopo il quarto grado, cioè quando un osso tocca quell'altro osso, ci può essere l'indicazione a un intervento di protesi al ginocchio. In ogni caso, nessun ginocchio, nemmeno quello più consumato nel mondo, si opera se voi non avete dei limiti, dei dolori o delle limitazioni sufficienti. Quindi rivolgetevi al vostro ortopedico di fiducia, chiedeteli di capire in che stadio siete per orientare il meglio possibile le cure in caso di artrosi al ginocchio. Grazie, a presto su questo canale. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace. A presto!